Questo lo vedremo, noi ribadiamo la nostra istanza che si vada a votare quanto prima e che questa città finalmente dopo anni di mal governo e mal governo veramente li stiamo trattando bene, abbia un governo onesto, quindi spingeremo affinché a Roma si vada a votare quanto prima e affinché non avvengano arrocchi come quello fatto dal governo dal 27 agosto quando ha tentato comunque di mantenere il sindaco Marino lì solo per non andare a voto e solo perché sa che se si va a voto il Movimento 5 Stelle vincerà come giusto che sia.